Benvenuti nell'episodio numero 17 della carriera pilota su F1 24 con GM7, il pilota più forte della storia della Formula 1 Oggi signori siamo a Baku, un circuito in cui noi storicamente abbiamo sempre fatto tanta fatica Veniamo anche da un risultato clamoroso, qui da riepilogo c'è scritto che ci siamo ritirati a Monza Ma solo chi ha visto il video fino alla fine sa effettivamente quello che è successo Ora però bisogna voltare pagina e dobbiamo concentrarci su un circuito veramente complicato Tra l'altro signori sto avendo veramente tanti problemi con la trazione dopo l'ultimo aggiornamento E' diventato molto più facile perdere la macchina in uscita dalla curva A Monza questo non si è visto perché il circuito è veramente tanto facile Qui a Baku invece facciamo già fatica con il controllo trazione completo Quindi figuriamoci con il controllo trazione medio E per non farci mancare niente dovrebbe anche piovere nel corso delle qualifiche Io vi invito però fin da subito a lasciare un bel mi piace per supportare questa carriera Vi ricordo che tutte le sere alle ore 19 avete una nuova gara da guardare E adesso basta parlare Andiamo dentro signori Ho fatto un giro abbastanza pulito E questa cosa purtroppo è preoccupante Perché vuol dire che se il giro è andato male a livello di classifica Non è che si può migliorare tanto Ecco ho scaricato tutto l'hers praticamente nel rettilineo E siamo settimi ma un secondo punto uno da quello sopra Mamma mia la vedo male ragazzi La vedo veramente male Siamo i peggiori? Vediamo Siamo i peggiori Addirittura abbiamo preso un secondo da Logan Sargent Perdo tutto praticamente nel secondo settore E questo lo sapevo già perché nelle prove libere Delta nel secondo settore crollava drasticamente Mamma mia ragazzi qui rischiamo veramente di andare ultimi eh Di partire ultimi Gomma nuova Andiamo subito dentro Mancano ancora 11 minuti C'è tempo forse per fare addirittura due tentativi Il fatto è che perdo in tutte le uscite di curva nel secondo settore 4 decimi recuperati nel primo settore Un secondo recuperato Adesso arriva il secondo dove praticamente perdo tutto Che cosa ragazzi ha tirato fuori dal cilindro GM7 L'ennesima magia L'ennesima magia di un pilota straordinario Come ho fatto a recuperare un secondo e sei Ragazzi non lo so Non lo so neanche io Un secondo e sei recuperato Incredibile Siamo settimi e tutti a casa Uff Mamma mia Però devo dire ragazzi che adesso So che la trazione più complicata Mi dà più libertà di rischio Cioè chi gioca a questo gioco lo sa Uno può utilizzare il controllo trazione completo Però è consapevole che viene rallentato Invece con il controllo trazione medio Tu puoi diciamo andare al limite Figuriamoci con quello completo Cioè nel senso con quello senza aiuti ecco Mamma mia se uno riesce ad avere quella sensibilità di piede Senza il controllo trazione recupera tantissimo Perché io adesso ho spinto come un cannibale Intanto mancano due minuti ma io sono tranquillo Stavo dicendo se uno riesce ad avere quella sensibilità di piede no Riesce a portare la macchina al limite E a strappare quei millesimi praticamente In ogni curva Comunque passa anche Yuki Si vede ragazzi che dopo l'aggiornamento La nostra macchina è stata migliorata E adesso questo giro mi ha dato tanta 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 fiducia E quando ho preso confidenza Che cosa succede signori Che inizia a piovere E quindi bisogna fare il giro Con le intermedie Porca di quella miseria E adesso ci vuole ancora più sensibilità No io non sto in pista ragazzi Ve l'ho detto Cioè nel senso È difficilissimo per me Non ho la sensibilità di piede Da riuscire a gareggiare così Monza è stato un caso a parte Perché Monza la pista era facile ragazzi Cioè era veramente fai Era tutto dritto praticamente Penso di aver fatto uno dei giri più brutti della mia vita ragazzi Non sto scherzando Praticamente non stavo in pista Non stavo in pista È stato il primo giro con le intermedie L'ho usato anche un po' per capire Un po' la situazione Ecco E la situazione è drammatica Però siamo sesti Porca misera Pensavo peggio Pensavo peggio Forse ho recuperato tanto nel terzo settore Perché ho scaricato tutto l'hers Siamo Eh siamo lì ragazzi Però due secondi e uno Ragazzi Due secondi e uno da Verstappen Ma qui le condizioni sono peggiorate Perché Albon ha dato tre Cioè nel senso Ha preso tre secondi e sei dal primo Che è troppo ragazzi È troppo È ancora da intermedia ragazzi Quindi metto gomma nuova E vado subito dentro Occhio perché anche gli altri Stanno facendo fatica Quindi non è impossibile Superare il taglio Noi di sicuro ci miglioriamo Perché peggio di prima Non si può fare Questo è certo Allora Scarico tutto l'hers Fin da qui signori Così magari inizio a prendere Più velocità Tanto l'hers si ricarica Si ricarica Perché andiamo lentissimi Nelle altre parti Ecco Quindi lo scarico tutto qui Ho una sensibilità di piede Porca miseria Per uscire da qua Che neanche le ho messi Ragazzi Neanche le ho messi Sta C'ha sta sensibilità Porca di quella miseria Sta anche venendo un crampo al piede Porca vacca Però mi sono migliorato veramente tanto Un secondo e quattro ragazzi Un secondo e quattro No 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 Oh mio dio Oh mio dio La stavo perdendo ragazzi La stavo perdendo in uscita da lì Porca miseria La stavo perdendo Piano qui Piano 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 Ho perso tanto Ho perso tantissimo ragazzi Non ci credo Ho perso tantissimo Era 1 e 4 Era 1 e 4 Il delta per colpa di quell'errore Adesso è a 8 decimi Che è comunque buono Ma credo che non sia sufficiente Per superare il taglio Siamo noni in questo momento Noni Abbiamo perso praticamente 6 decimi circa 5 decimi per quell'errorino lì Ed erano quei decimi che ci servivano Erano secondo me Quei decimi che ci servivano Vediamo Spassiamo il taglio Passiamo il taglio ragazzi In condizioni estreme Mamma mia Anche con quell'errorino Passiamo il taglio E siamo in Q3 Condizioni meteorologiche Vediamo un po' È da intermedie È ancora da intermedie Anche se loro mi dicono quasi full wet Piuttosto che intermedie Però guardate il tempo ragazzi Allora per me il secondo tentativo Si fa con la rossa Allora io vado dentro con le intermedie 9 Faccio un giro Ma occhio al secondo Perché con la rossa Attenzione 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 La mescola consigliata Che cosa sto facendo ragazzi Sono uscito Porca misera Sono uscito così Sono uscito così Sono uscito Vabbè comunque mi consigliavano Le full wet Avete visto Cioè per me Non lo so Gli altri posso vedere la gomma degli altri No mi sa che non riesco a vedere la gomma degli altri Vabbè ormai ragazzi Che devo fare Facciamo il giro di lancio Nel senso Lanciamoci così Anche se sta piovendo veramente Veramente tanto Mamma mia se piove ragazzi Peggio di prima Peggio di prima Faccio un po' di prove così Vedete Vedete come la perdo ragazzi Mi approfitto di questo giro Per far vedere dove io perdevo Tutte queste uscite qui così Se le faccio veloce Perdo la macchina Cioè è veramente incredibile ragazzi È davvero incredibile Ma cioè Io le facevo così Prima dell'aggiornamento Nonostante il controllo Anche qua Anche qua vedete Devo tipo uscire piano 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 Cioè è così Nonostante questo Perdo la macchina Incredibile E tutte queste uscite qui Ovviamente non aiutano la gomma ragazzi Perché questi errori qui Gli altri non li fanno Li facciamo solo noi Comunque Inizia il giro ragazzi Vediamo che viene fuori Vediamo che viene fuori Io provo a strappare Anche rischiando Ogni millesimo possibile Da ogni curva Ho fatto il massimo ragazzi Ho fatto il massimo Ho fatto il massimo E sono andato veramente molto piano Perché Le condizioni sono quelle che sono Però Boh Non l'ho Beccato pure il muro Porca di quella miseria Vediamo un po' Il tempo E sesti Sesti ragazzi Sesti Torniamo al garage Situazione veramente drammatica ragazzi Veramente drammatica Però sono riuscito a mettermi davanti A Sergio Perez Sì Non sono così lontano Da Pierino Gaslino Mancano 4 minuti però Io voglio farlo con le intermedie Cioè è quasi da Oddio È da rossa È da rossa ragazzi È quasi da rossa Entro dentro con le rosse Passa la me No 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 Ignoro e vado in pista Fidatevi di me È quasi È quasi da rossa Mi sembra strano ragazzi È che sia quasi da rossa Infatti non è da rossa Porca miseria Dove cavolo sto andando Con la rossa a fare il giro sotto alla pioggia Però anche gli altri hanno messo la rossa Vedo vedo dei rossi Vedo Mancano 40 secondi ragazzi Tutti che si stanno lanciando Credo eh 40 secondi Aspetta facciamo passare l'ultimo Io voglio Voglio essere l'ultimo ragazzi eh Sono l'ultimo adesso Però devo stare attento Perché prendo bandiera Forse eh Giro veloce per Perino Casrino Ragazzi Forse giro veloce per Fernanda Ah erano nel giro quelli Erano nel giro Quindi forse li ho rallentati Ragazzi attenzione Perché sono l'unico con la rossa L'unico con la rossa Signori Prova il jolly Prova il jolly GM6 Vediamo che viene fuori Vediamo che viene fuori con la rossa Viene fuori che la metto nel muro al primo giro Vediamo Eh per davvero La metto nel muro al primo giro Porca miseria Porca miseria Eh ci ho provato ragazzi Ci ho provato eh Ci volevo una sensibilità di piede Non 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 normale Eh vabbè Torniamo al garage Ci ho provato ragazzi Ci ho provato Si poteva fare un altro tentativo Però avete visto che c'era scritto Meno un secondo e quattro Cioè quindi E tecnicamente era da rossa Con le intermedie Bravi Bravi Giusto Giusto Si poteva optare per le intermedie Infatti Pierino Gazzelino Si prende il quarto posto Con le intermedie Con l'Alpine Che è un trattore Ed è l'ultima macchina eh ragazzi Dopo l'aggiornamento Nella classifica Dei confronti Delle prestazioni L'Alpine È l'ultima macchina Della griglia E in questo momento Si trova al quarto posto Con Gazzelino Quindi Tanta roba ragazzi E vabbè Io ho provato il Jolly Perché non avevo niente da perdere Davvero raga Non avevo nulla da perdere E quindi Va bene così Va bene così ragazzi Sono contento Dai ci siamo divertiti Adesso che abbiamo corso Con la pioggia Miglioriamo poi di conseguenza Anche con l'asciutto Perché con la pioggia Ci vuole una sensibilità di piede Alla Leo Messi Invece poi con l'asciutto Basta anche il piede di Petagna Capito Quindi adesso Noi siamo diciamo Messi bene Ecco sotto questo punto di vista Tutto pronto ragazzi Ci siamo Siamo a Baku La griglia di partenza L'abbiamo già vista In precedenza Lando Norris Al primo posto Con il Leone Fernando Aronzo 16enne signora La prima stagione In Formula 1 Incredibile Allora per quanto riguarda La strategia Qui bisogna un attimo Tenere conto anche Delle possibili safety car Perché avete visto Dopo l'ultimo aggiornamento Possono uscire le safety car E anche le bandiere rosse Sperando che non si Bunghi di nuovo il gioco Strategia Allora io direi di fare Un 6-12 Partiamo con gomma rossa Nuova Ovviamente Tutti partiranno con la rossa A parer mio Visto che nessuno L'ha utilizzata Praticamente Nelle qualifiche E chiudiamo con Gomma media Io sto ancora ripensando Alle qualifiche Effettivamente Se avessimo fatto il giro Con gomma intermedia Potevamo superare facilmente Tutti quelli Che avevano messo Le full wet Quindi fare come Gasly Effettivamente Eh quindi forse Non è che avevamo niente da perdere Forse Forse abbiamo perso Veramente tante posizioni Ormai però non si può più Tornare indietro ragazzi Ormai si parte Siamo noni Quindi qualcuno si è preso penalità Probabilmente Spero che non sia Gasly Dai Sì sì Sarebbe che lavoroso Si parte ragazzi Si parte Si parte Qui arriva subito la curva Attenzione Mi sa che veramente Gasly Piano 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 qui in frenata Terzo Ok terza marcia Seconda piano Qui in uscita Vedete Mamma mia ragazzi Mamma mia Prima dell'aggiornamento Piano qui adesso Piano di nuovo Ok ma chi è che su qui Che si sta infilando Porca misera Vuoi mollare piano qui Piano che non mi fa uscire bene Chi è? È Albon Porca miseria Albon datti una calmata C'è anche Yuki dietro che sta arrivando eh Attivo tutto l'Helso qui signori Per uscire a prendere posizione Sarà fondamentale qui ferrare tardi Infatti freno tardi Occhio perché Sainz e le Clec Si stanno picchiando a vicenda E noi ne possiamo approfittare Per riagganciarci Qui sarà fondamentale Signori prendere DRS Sarà fondamentale con le Crec Ah vedete ragazzi Vedete vedete Cioè questi errori qua Io prima non li facevo Questi qui sono errori Fatti dopo l'aggiornamento Per la trazione Per la trazione ragazzi Devo fare Devo avere una sensibilità incredibile Cioè ormai è come se Non lo so È come se mi stessi di nuovo Abituando a giocare Senza l'aiuto della trazione Cioè veramente Abbiamo fatto passi Piano 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 Abbiamo fatto passi indietro Allucinanti Per colpa dell'aggiornamento Però da un lato ci sta ragazzi Perché effettivamente Molti pro player si erano lamentati Gente che gioca da tantissimo tempo E tutti hanno detto Che la trazione Era effettivamente Molto facile Quindi ci sta ragazzi Cioè è giusto così Alla fine È giusto così Piano 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 Terza E si così Ok Allora sono a 1.7 Purtroppo dalle Clerc Anche qui signori Vado a perdere qualcosina Soprattutto in questa curva Faccio fatica ad uscire Qui Eh devo stare attento Attivo un po' di Lers Qui recupero ragazzi eh Qui recupero abbastanza Lers qui no però Qui recupero abbastanza Perché attivo subito Lers qui in uscita Quindi qui riesco a recuperare abbastanza Questo potrebbe essere fondamentale Invece non ho recuperato niente Porca di quella miseria Tutto lers scaricato Ma non ho recuperato niente Questo vuol dire Che purtroppo mi sa Che Albon ci brucerà Ho preso 2 secondi Dalle Clerc In 2 settori praticamente Questa cosa DRS abilitato Eh questa cosa Non ci aiuta Porca di quella miseria Non ci aiuta per niente Qui si fa in terza Usciamo bene Ok Un S Non parlare Basta lo sappiamo Non è che ogni volta Mi devi spiegare cos'è il DRS Porca di quella miseria Rallentano questi davanti ragazzi Rallentano Buon primo settore Buon primo settore E effettivamente Ho fatto anche un Fugsa Nelle qualifiche Nel primo settore Lo facciamo bene Nel primo settore Nel secondo Che purtroppo veniamo fregati Loro rallentano tantissimo E quindi Mi permettono di Di riattaccarmi Anche se non ho questo ritmo Ragazzi Anche se non Chi è? Chi è? È Gasly No ma non penso Che ci sia Gasly davanti C'è qualcuno che Mi sta rallentando tutti Ma adesso che c'è DRS Piano qui Adesso piano qui in uscita Metto la seconda Per uscire meglio Ok Adesso che c'è DRS E tutti faranno i sorpassi Qua eh Il primo probabilmente Subirà sette sorpassi Quello che non c'è DRS Quello che non c'è DRS Subirà sette sorpassi Il problema ragazzi Sapete qual è Il grandissimo problema? È che io non ho DRS E quindi mi sa Che quello che subirà Settantasette sorpassi Sarò proprio io Porca di quella miseria Mannaggia La vacca indiana Perché dietro Sono tutti i DRS Quindi ci bruceranno tutti Ragazzi Giro veloce per Lando Loris Ante suoi Perché potrebbe vincere Dovrebbe essere primo Però non ci bruciano Ok dai Meno male Meno male ragazzi Meno male La nostra macchia Nel dritto va veloce Piano qui Piano 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 Terza Un po' largo E bisogna sfruttare il primo settore Perché nel primo settore Io vado a recuperare È qui È qui che vado a recuperare Loro frenano anche Perché è come se fosse Non dico Monaco Però c'è nel senso Tante curve strette Guardate lì come si soppassano Bravi 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 Combattete Anche questa è zona di RS Anche questa è zona di RS Per fortuna che comunque Riesco in qualche modo A tenerlo dietro Piano 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 qui in seconda Piano 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 Mi sono avvicinato Mi serve di RS ragazzi Mi serve di RS per forza Però sbaglio il secondo settore Io non so come faccio Cioè perdo veramente tantissimo Nel secondo settore Piano anche qui Ok terza E poi questa è in seconda Questa no è tutto terza Non è anche No è seconda È seconda È seconda Ok Allora adesso ho il DRS a pelo Ma lo perderò tutto qui Qua ragazzi Qua perdo tutto io Qua perdo tutto Allora seconda marcia Esco male qua Esco male qui Poi cercando di recuperare Riesco di perdere anche la macchina In uscita Piano qui Ok Destra sinistra Però perdo raga tantissimo Timo un po' di RS qui Ho perso 5 decime ragazzi Anche 6 Anche 6 decimi Persi in 3 curve Cioè è incredibile Come un tratto così breve Possa incidere così tanto Mamma mia Lì non devo attivare Ok Ho sbagliato marcia Metto la terza Metto la quarta Ho DRS forse a pelo Ragazzi sto spingendo Come un cannibale Per prendere DRS Dammi DRS Per favore Dammi DRS Ti prego dammi DRS Ti supplico dammi DRS Dammi il DRS Dammi il DRS Per l'altra volta Ti prego Attivo tutto l'ERS Non so quello che sto facendo Non c'ho DRS Incredibile Non posso difendermi ragazzi Non posso difendermi in questo momento Perché sono senza batteria E quindi subiremo purtroppo il sorpasso Anche Gasly Gasly era lì ragazzi Era Gasly che li stava rallentando tutti Allora Ver davvero raga Ver davvero Prendo un po' di scia di Albon qui Vediamo se riesco ad allungare la staccata Magari provare un incrocio incredibile No ragazzi Nessun incrocio Piano Sei zitto Non mi parlare Non mi parlare Adesso io ho ancora DRS Io ho ancora DRS Cioè nel senso Ho DRS qui ovviamente Già qui lì davanti Combattono C'è Gasly che sta andolentissimo ragazzi Gasly potrebbe essere la nostra salvezza Con le medie tra l'altro L'unico pazzo con le medie Come ha fatto ragazzi Perché ha sbagliato completamente strategia Quella che poteva essere La gara della vita Dell'Alpina Che guardate lì Gasly Quanto li sta rallentando ragazzi Incredibile Incredibile Gasly Guardate lì Allora dai Avrà qualche problema ragazzi Tra me e Gasly Non so chi è messo peggio qua Piano 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 Ok questa è in terza E poi in seconda Però andiamo così piano Andiamo che è praticamente Tutto da seconda qua Team un po' di ers C'è Yuki dietro Yuki Yuki Gioco di squadra C'è Perez dietro Yuki comunque Yuki gioco di squadra Yuki Yuki Non t'azzardare A A come si chiama A A superarmi eh Mi devi Mi devi proteggere Mi devi proteggere Yuki Mi devi proteggere Dall'attacco di Perez eh Gioco di squadra Altrimenti Ti licenzio Siamo noi I capi I capi squadra qua Team un po' di ers In uscita qui Però devo stare attento Perché esco con troppa velocità Qui Disattivo l'ers Però Non c'ho DRS ragazzi C'è incredibile Incredibile Quanto perdo In quelle tre curve Veramente incredibile DRS forse a pelo ragazzi DRS forse a pelo Gazri dovrebbe subire 47 sorpassi O DRS forse per la prima volta In questo rettilineo In quattro tentativi Forse eh Forse non lo so Facciamo bene sto pezzo Bacino al muro Sinistra Destra Ers attivo E via così O DRS Meno male ragazzi Meno male Meno male Guardate Norris sta letteralmente volando Ragazzi Norris L'ottava marcia ce l'ho messa Ma comunque Se anche loro hanno DRS E il DRS mi serve solo per proteggermi Davanti accade qualcosa ragazzi Accade qualcosa davanti Piano 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 Con albo Con gaslin difficoltà Gaslin difficoltà Mamma mia Adesso però che l'hanno superato Prenderà Prenderanno il volo Chi l'ha superato? Sainz l'ha superato Guardate lo stanno Oddio mio Questi errori Questi errori Questi errori Io ho DRS però DRS C'era anche Yuki DRS Mamma mia ragazzi Incredibile Incredibile Con questa Con questo nuovo aggiornamento Dio mio dove mi sto infilando? Su questo nuovo aggiornamento L'errore è dietro l'angolo Anche perché secondo me Sto iniziando a soffrire tantissimo L'usura Perché più la gomma si usura E più si fa fatica Cioè è più probabile Perdere Perdere Trazione Come si dice? Non avere grip In uscita Come si dice? Vabbè comunque avete capito Piano 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 C'è ancora Algon C'è ancora Algon E sì Possiamo stare attaccati ad Algon Perché E lecler Ma attenzione qui Attenzione qui Altra safety Safety car ragazzi Dico altra Perché è uscita anche Nell'ultimo video No? Ok tutto libero Tutto a posto Qualcuno che ha preso il muro Piano Yuki che ha preso il muro No? Piano 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 Adesso sinistro Guarda quanto perdo ragazzi Ho perso un secondo e sei Sergente fuori dalla sessione Ho perso un secondo e sei In quel tratto lì No ma è veramente incredibile ragazzi Cioè è veramente incredibile Cioè non si può Non è proprio ammissibile una cosa del genere Perché poi nelle altre curve il ritmo ce l'abbiamo Quindi c'è nel senso è solo lì È solo lì Occhio il distacco Lo so c'ho Yuki dietro Yuki proteggimi Yuki proteggimi Che adesso devo andare al box Perché era tipo al sesto giro se non erro Devo andare al box Yuki quindi proteggimi solo adesso Dai proteggimi solo adesso Attivo un po' di Ersu qui Ma mi supererà 100% ragazzi Forse subiremo anche il soppasso di Perez Con la Red Bull 100% Nel frattempo L'Ecletch è riuscito a superare Proteggimi 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 Yuki Proteggimi Proteggimi Non mi stai proteggendo nulla Porca di quella miseria Occhio perché se allungo la staccata Riesco ad andare largo Occhio perché No 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 Porca di quella miseria Eh vabbè ci stava raga Ho provato a fare una giocata Che non esisteva Ho provato a fare una giocata pazza ragazzi Per fortuna la macchina Non si è danneggiata E va bene così Ho provato a fare una giocata Allungando la staccata Ma lei non potevo farlo Cioè non c'è lo spazio Per fare una cosa del genere Attenzione qui perché Non ho neanche DRS No ce l'ho Non si sa Però sono nel panico raga Sono nel panico Anche perché l'usura delle gomme Sarà tipo al 100.000 sarà Io sto facendo una fatica immensa Di uscire dalle curve E si è visto tantissimo Perché Mamma mia 4 secondi C'ha dato Albon 4 secondi ragazzi 4 secondi 4 secondi Incredibile Allora poco prima del pit Voglio vedere come sono messo A livello di usura Perché la vedo veramente male Tutte queste uscite sbagliate Gomme al 20% La posteriore destra ragazzi Non sono neanche messe malissimo Le gomme Se posso essere sincero Per essere Mi ha dato 2 secondi Io sto completamente perdendo ritmo ragazzi Cioè non lo so E adesso arriva questa parte Io se provo a farla più veloce Perdo la macchina Cioè non so Non lo so ragazzi Veramente Io la odio questa pista Io la odio questa pista Porca miseria Non potevo registrare il video Su questa pista Prima dell'aggiornamento Almeno avremmo avuto Meno difficoltà Comunque tante difficoltà Ma meno difficoltà Porca miseria Io ho sbagliato la marcia 2 secondi e 5 Ci ha dato Perez Allora vado ai box Provando il nostro super undercut Vediamo un po' se succede qualcosa E adesso rientro Adesso rientro Adesso rientro Lasciamo spazio agli altri E peccato ragazzi Peccato Perché il ritmo Cioè all'inizio il ritmo c'era Più o meno c'è Nel senso Non lo so Vabbè avete capito Chi ha visto il video lo sa Box ragazzi Box 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 No non mi superare lì Devo rientrare Devo rientrare Yuki dove mi passi Ma guardate un po' ragazzi Ma io non ho parole Ma io non ho parole Ma dove mi volevi superare Nella corsia dei box Cioè ma io veramente Io non ho parole ragazzi Cioè boh boh Sono senza parole Ritirato sergianto comunque Senza sergiare Alla fine Ok abbiamo anche visto Come si chiama L'avviso che è uscito 2.5 Bravi 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 Bel pit Allora Adesso vediamo quello che riusciamo a fare Io provo ad entrare in modalità cannibale Adesso di sicuro avremo più Piano 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 Ho diventato anche l'Hers Che me l'ha andato con l'Hers attivo Ok Adesso cerco di concentrarmi ragazzi Cioè leclerc Leclerc sedicesimo Con gomma rossa Ha avuto un danno Ha avuto un danno leclerc Ragazzi Per forza Ha avuto un danno leclerc 24 secondi Ha avuto un danno leclerc In quei sorpassi Bello però eh Bella ragazzi Questa cosa qua Finalmente il gioco Finalmente succedono delle cose L'ho detto anche in tutto il video con Della gara a Monza Finalmente succedono queste cose Che cambiano un po' La Un po' la situazione Ecco E Bene Molto bene ragazzi Molto bene Molto bene Partire di scuderia in box Ragazzi Purtroppo l'Hers Non funzionerà per niente Abbiamo fatto solo un giro Con la gomma media Tra l'altro neanche un giro Mezzo giro Tantissimi vanno in box Adesso sarà fondamentale vedere Dove finisce Yuki Perché anche forse solo un giro Può averci dato Quel qualcosina in più eh Quel qualcosina in più Per andare davanti Vediamo dove rientra Yuki Vediamo dove rientra Yuki Rientra dietro Yuki Molto bene Molto bene Molto bene Potentissimo Undercut Potentissimo 4 secondi ragazzi Incredibile Ci ho preso 4 secondi e mezzo Grazie a un giro Fatto bene Incredibile Veramente incredibile Albon purtroppo sta letteralmente volando Quindi Albon non lo prenderemo mai E quindi mi sa che questa gara L'abbiamo buttata nel gabinetto Perché non possiamo far niente Perché adesso non so se Quando tutti rientreranno In che posizione andiamo Perché ero tipo decimo Non lo so Ero così concentrato nella corsa Che non Che 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 non Cioè nel senso non sapevo neanche la posizione Non sapevo nulla Intanto sono curioso di vedere una cosa Vediamo quanto ci recupera Piano qui Piano 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 Vediamo quanto ci recupera Yuki 3.6 Ma il ritmo c'è ragazzi eh Il ritmo Il ritmo purtroppo Purtroppo loro ce l'hanno Noi non ce l'abbiamo 3.6 Vediamo quanto recuperano qui Destro Sinistro Deve uscire piano All'allentatore ragazzi Ho perso un secondo 3.2 3 secondi Guardate qua Ho perso un secondo ragazzi Incredibile Incredibile Un secondo perso praticamente In mezzo giro Neanche Ma tutto per colpa di quelle curve lì Perché poi ripeto Il primo settore E il terzo settore Lo facciamo bene È il secondo Che ci frega Ed è stato così Anche Nelle qualifiche Comunque cerco di entrare in modalità cannibale Vediamo solo un attimo una cosa Perché adesso Rientreranno tantissimi Penso eh Perché stiamo facendo un undercut incredibile Su tutti quelli che hanno ancora gomma rossa E non sono entrati Attivo l'erso qui per recuperare il più possibile Box per Bottas Box anche per Perez Che era dietro Box per Hamilton Che ha messo la bianca In questo momento ragazzi La bianca Allora vediamo se qualcuno si mette davanti O qualcuno si mette dietro Io spero di avere qualcuno Che mi traini Con il DRS Vediamo un po' Se c'è qualcuno C'è Perez C'è Perez C'è Perez Ma Perez era dietro ragazzi Perez non era dietro Yuki Perez Vabbè comunque adesso Ho DRS di Perez Grazie Perez Grazie mille Perez Mi dai una mano per difendermi da Yuki Grazie 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 E così mi trascini E mi rendi ancora più potente L'undercut che stiamo facendo sugli altri Perché lo stiamo ancora facendo l'undercut Piano Qui largo 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 Avevo più velocità rispetto a prima Ho sbagliato il punto di frenata Piano Qui ho sbagliato anche la cuo Anche la marcia Eh però non riesco a tenerlo ragazzi Non riesco a tenerlo proprio Cioè lo perderò subito il DRS Qui non farò neanche un Neanche un rettilineo con il DRS Neanche uno ragazzi Neanche uno Non voglio essere ripetitivo Cioè purtroppo c'è questo secondo settore Che ci toglie tutto Eh peccato ragazzi Bisogna migliorare Su questa pista bisogna migliorare Cioè bisogna migliorare in generale Eh Con questo nuovo aggiornamento È tutto più complicato E bisogna poi migliorare su questa pista Che storicamente facciamo fatica ragazzi Io non riesco ad uscire bene Perché se accelero Perdo la macchina Cioè Non lo so ragazzi Non lo so Comunque poi leggerò anche tutti quanti i vostri commenti Eh La cosa va studiata ragazzi La sito qua va studiata eh Non so se bisogna vedere qualcosa Qualche tutorial qua Per correre a Baku Ma ho perso tre secondi in quel settore Quindi c'è qualcosa che non va ragazzi Di sicuro c'è qualcosa che non va E Miglioreremo Non si tratta di difficoltà ragazzi Perché la difficoltà comunque è giusta Perché nel primo settore Nel terzo settore Siamo lì ragazzi Cioè primo settore Terzo settore Siamo lì Quindi si abbasso la difficoltà Nel primo settore Nel terzo settore Li mangiamo E questo non va bene Bisogna solo imparare a fare Quel secondo settore Boxa ragazzi Boxa anche per Yuujo Che era Dietro Molto dietro Boxa anche per Stroll Che mette la gomma bianca Sì c'era anche questa possibilità Di fare gomma bianca Io mi sono avvicinato Mi avvicino tanto qua eh Qua mi avvicino tanto Recupero qualcosina Stroll si mette davanti Yuujo Questo potrebbe essere Un vantaggio Vediamo un po' Sì 2.3 Quindi loro potrebbero combattere Ok siamo dodicesimi In questo momento C'è Gasly con gomma media E con gomma bianca Scusatemi Perez di sicuro Prenderà Gasly E Gasly potrebbe rallentare Perez Piano 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 E di conseguenza Noi potremmo forse 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 avere di RS Non lo so ragazzi Ho fatto bene i calcoli Boh qualcuno che è partito Con gomma bianca Non si è ancora fermato Secondo me un punto Riusciamo a strapparlo Un punticino Secondo me eh ragazzi Non lo so E Yuki ha superato Yuki sta volando Madonna Yuki Eh ho perso tantissimo Qua ragazzi Porca di quella miseria Mamma mia Yuki sta letteralmente volando Yuki eh Adesso valutiamo un attimo Dopo se farlo passare Oppure se dargli la posizione Magari all'ultimo giro Eh non lo so Non lo so Non lo so Perché nella vita reale Nella vita reale Yuki passa Cioè nel senso Yuki va fatto passare Nella vita reale Guardate quanto mi ha dato Perez Guardate quanto mi ha dato Perez Io odio questa pista ragazzi Io odio questa pista Io odio questa pista Non riesco Cioè non lo so Vabbè di sicuro è colpa mia ovviamente Eh non è che la pista fa schifo Anzi Cioè è una bella pista Il problema è che È quel secondo settore Che io non riesco a fare ragazzi Non riesco a fare Altro che in Monaco Monaco è facile Monaco è facile come pista Per me Cioè avete visto Abbiamo fatto una bella gara Una bella qualifica Anche se effettivamente Monaco Abbiamo corso a Monaco Ha quasi preso di RS Yuki eh Quindi prossimo giro mi passa Prossimo giro mi passa 100% Si sta tirando dietro Si sta tirando dietro anche Stroll Stavo dicendo Abbiamo corso Giro veloce per Sergio Perez Che sta volando Occhio a Yuki ragazzi Box anche per Magunsen Eh occhio perché potrebbe essere un punto eh Potrebbe esserci il punticino eh Però così vado in decima posizione Così in undicesima posizione In decima ancora non ci vado Potrebbe esserci però qualcun altro ancora Eh non lo so Intanto Perez ha superato Gasly Ok Gasly non sa neanche lui come fa a essere lì Con una super qualifica 1.8 Dai Stroll combatti con Yuki Stroll combatti con Yuki Cavolo Devo stare concentrato Devo stare concentrato Madonna mia Madonna mia Incredibile 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 No No comment ragazzi No comment su quello che appena è successo No comment No comment Meglio sto zitto Peccato perché ce l'avevi Cioè nel senso si poteva Era Era questione di tempo eh Guardate la marcia Era questione di tempo Ma Un altro giro si poteva resistere Perché Stroll stava lottando Un pochettino con Yuki E quindi un altro giro Senza dare di RS L'avremmo Eh si poteva dare Qui provo ad andare stretto così E poi mi allargo tutto così Forse così lo devo fare Eh forse se lo faccio così Forse se lo faccio così ragazzi Forse è meglio così Se vado stretto Quando esco lì dal castello Poi riesco ad avere più velocità Eh non è male ragazzi Eh farla così Anche qui perdo tantissimo ragazzi Non è male ragazzi Non è male Non è male Devo Devo riprovarci ragazzi Devo riprovarci Piano 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 Ok Buono Adesso però purtroppo Subirò il sorpasso Anche se sono carico di RS eh Sono carichissimo di RS Ragazzi Sono carichissimo di RS Destro sinistro RS al massimo RS al massimo RS al massimo Sono bello carico di RS ragazzi Forse riesco Forse riesco a difendermi eh Forse riesco a difendermi E se ho capito come fare Quel secondo settore Box anche per Hulkenberg Eh Yuki Io il punto lo voglio adesso eh Adesso il punto lo voglio ragazzi Il punto a Baku È praticamente Una vittoria per noi Madonna mia Madò 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 Eccolo Eccolo il punto Eccolo il punto a Baku Eccolo qui il punto a Baku Porca di quella miseria Eccolo qui il punto a Baku È arrivato il punto in fronte Il punto ce lo mettono all'ospedale Porca miseria Il pronto soccorso Sulla fronte ce lo mettono il punto Porca di quella miseria Piano qua Yuki piano 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 Non mi frarerà addosso Ah Dio mio Dio mio Maledetta attrazione ragazzi Maledetta attrazione Maledetta attrazione Porca miseria Ah mamma mia Non ci voleva ragazzi Non ci voleva Questo aggiornamento mi ha Mi ha Mi ha distrutto Mi ha distrutto psicologicamente Mi ha distrutto proprio In tutto e per tutto Allora vediamo se riesco in qualche modo A prendere DRS Se faccio bene Questo pezzo qua Io taglio tanto qui Io taglio tanto Loro non lo fanno così Allora prova ad andare dentro così Destro sinistro Abbiamo detto Subito stretto Per poi Ecco Ecco qua Subito stretto Bene Molto bene ragazzi Molto bene Molto proprio così Proprio così andava fatto Proprio così Guarda tutorial ragazzi Se qualcuno sta imparando a giocare a formula 1 Ho fatto un tutorial su come fare quel pezzo Siete interessati Fatelo vedere anche ai vostri amici Porca di quella miseria Ho dimenticato anche l'hers attivo Sto perdendo Mamma mia Perdo la macchina In uscita Da ogni curva Del secondo settore È qualcosa veramente di allucinante Allucinante ragazzi Allucinante Gilo veloce per carnetto sainz Attivo subito l'hers qui signori Così almeno esco con un po' più di velocità Ovviamente yuki ci dà forse un po' di scia Arriva un po' di scia Anche se si allontani Arriva un po' di scia Yuki Devi rallentare Yuki Però dai nella vita reale Yuki rallenterebbe Me lo darebbe di RS Cavolo Prova a difendermi ragazzi Ok lo mando molto stretto Devi accodare Accodati 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 Bravo 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 Si è accodato no Ok si è ancora dietro Ho quasi di RS Ho quasi di RS Ho quasi di RS Piano Ho di RS Non ce l'ho Non ho di RS Ma ero tipo a pelo Adesso qua è zona di RS È zona di RS È zona di RS Prova ad allungare il più possibile Alla staccata Però mi frema davanti Prova ad infilarmi Dove non si può Dove non si può Incrocio che non esiste E tua sorella Niente ragazzi Perdiamo anche la posizione su Maglsen Mamma mia Mamma mia un inferno Un inferno Allora senza l'aggiornamento Non avremmo avuto Tutte queste difficoltà Assolutamente raga Perché avete visto Cioè nel senso È assurdo È assurdo Che perdo la macchina In ogni parte Del secondo settore Dal lato sono contento Perché ci sprona Comunque a migliorare Io non voglio mettere Il controllo trazione completo Perché è ovvio Che se mettessi Il controllo trazione completo E sarebbe tutta E sarebbe tutta altra cosa Comunque andremo in difficoltà Perché storicamente Questa è una pista Dove io non so correre Due secondi ho perso Ragazzi È incredibile È incredibile Due secondi ho perso Eppure la qualifica L'ho fatta bene Come ho fatto Raga a fare una qualifica Così bene Non lo so Raga Non lo so Non lo so Non lo so Cioè nonostante tutto Ho fatto una buona qualifica Non ne ho Non ne ho veramente idea Non ne ho veramente idea Poi la qualifica Ripeto È sempre più semplice Per me Perché io sono un pilota Attenzione qui Bandiera gialla ragazzi Oddio 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 Maglusell Oh mio oddio Cos'è successo Oh mio oddio Mi si è Si è esploso il motore In faccia Maglusell Fruta la sessione Safety car Dammi una safety car Così mi mangio Yuki No non me l'ha data Raga Niente safety car Mi sa Ma il motore è bruciato Bisogna vedere Bellissime queste cose Però eh Questa è la formula 1 Bravi piscali dell'EA Bravi piscali dell'EA Safety car Bravi piscali dell'EA Bravissimi Bravissimi Ricarichiamo l'Hers Ricarichiamo l'Hers Bravissimi cavolo Bravissimi Bravissimi piscali dell'EA Perché avete Con questo aggiornamento Avete veramente Svoltato il gioco Porca di quella vacca Perché è una gara Morta Era una gara brutta Era una gara dove effettivamente Non poteva succedere più nulla Dove noi dovevamo solo subire 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 E adesso con questa esplosione Del motore Di Maglusell Se ho visto bene Si penso di si Noi adesso andiamo a Cioè abbiamo Abbiamo una possibilità in più Ovvero Riprendere DRS Io mi devo avvicinare però Sono Ho realizzato un po' tanto Tanto comunque non mi possono superare E vi devono aspettare Ok Tra l'altro Norris La stava dominando Questa gara ragazzi La stava letteralmente Dominando Lando Norris Guardate il riguadrino Signori Guardate la mappa Norris è già arrivato Alla safety car E dietro c'è Verstappen E poi anche Ho piastri Dovrebbe essere Poi c'è il Sainz Con le cle che aveva avuto un problema Quindi le kei dovrebbe essere Molto dietro Comunque Norris l'aveva praticamente vinta Questa gara Incredibile E tra l'altro Questo ci aiuta ancora di più Perché Meno giri Abbiamo da fare Meglio è Infatti ci posso mettere Tipo mezz'ora Per raggiungere la quota Mi danno penalità Vabbè comunque non facciamo ste cose Sto andando Sto andando Un po' Un po' Non in maniera velocissima Ma ci sto andando Ok Perché io ho un colpo su Yuki Ho un solo colpo su Yuki Cavolo Perché poi se lo passo Yuki Poi lui mi ripassa 100% Quindi io ho un colpo su Yuki Per prendermi il punto Complimenti all'EA per l'aggiornamento Lo ridico ancora Veramente Avete svoltato il gioco Cavolo Bravi Perché è così che succede Anche nella vita reale È così che succede Peccato solo per la trazione Però devo Devo un attimo alledarmi Quella è colpa mia Cioè non posso dare la colpa al gioco Cioè non posso dire al gioco Ah adesso è difficile Le fate schifo No è colpa mia È colpa mia che devo un attimo capire Come Come muovermi con questa Nuova trazione Ecco Come comportarmi Con questa nuova trazione Questo volevo dire Ma taratto ragazzi Ma sto correndo Ma dov'è la sta coda Della safety car Porca di quella miseria Oh eccoli Eccoli Alunso Alunso Come Alunso Come è possibile Yuki Hai anche superato Alunso Come è possibile ragazzi Ma no è impossibile Da dove è uscito Alunso In questo giro rientra Ragazzi sto attaccatissimo Sto attaccato 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 Ti ho Alunso Ti ho Ti ho Alunso Ti ho Ti ho Alunso Ti ho Occhio 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 Non mi frenare addosso Si parte Si parte Si parte Si parte Si parte Posso andare Posso andare Posso superarlo Non lo so se posso superarlo Dentro 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 Vado 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 all'interno Ragazzi È difficilissimo Qui Madonna mia Doppio su Yuki 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 Ok Doppio sul passo No ho sbagliato Era Porca di quella miseria Attenzione Yuki Piano 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 Mi basta Anche Alunso Ho la curva però All'interno Ho la curva a mio favore E vado Ok Però vedete ragazzi Quando cerco di uscire Poi bene dalla curva Perdo in trazione C'è poco da fare ragazzi C'è poco da fare ragazzi C'è poco da fare C'è poco da fare Ancora ci provo ragazzi Dentro Tiro la staccata su Alunso Dentro ancora Contatto con il leone Che poi si prende la posizione Niente 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 Piano ancora Piano Piano Ci dovevo provare ragazzi Ci dovevo provare Ci dovevo provare Collisione con Ulkenberg Cioè Alunso ci si è ammenati Tutto il tempo Collisione con Ulkenberg Va bene Ci dovevo provare Ragazzi Era la mia unica Possibilità Era la mia unica Possibilità Perché loro nel primo giro Vanno lenti Era la mia unica Possibilità Alunso avevo la bianca Anche Dio mio Come ho fatto ragazzi A non prendere la posizione Ho sbagliato Ho sbagliato l'uscita L'uscita dalle curve Ragazzi Perché ovviamente Come ho detto prima No Devi cercare Devi trovare La sensibilità giusta Perché Se us Perché Devo Devo accelerare Il più velocemente Possibile Per riuscire A superare Ma se vado troppo velocemente Perdo la macchina Quindi c'è bisogna trovare Proprio quel Quel Non lo so Quel centimetro giusto Alunso Molto piano Alunso Ragazzi Peccato che non ci sia DRS Adesso Mi sarebbe servito Ora il DRS Piano Alunso Ragazzi Manda una Allora Ma mica Mica io ho rotto la macchina Non penso Non penso che io ho rotto la macchina Non credo ragazzi Non credo Occhio perché da qui esco bene Da qui esco bene ragazzi Ricarica Ulch Ma da qui esco bene Attenzione perché metto anche l'ottava marcia E GM7 può andare GM7 può andare Occhio a sinistra Doppio sorpasso incredibile Di GM7 Di GM7 Doppio sorpasso che si prende la decima posizione E vola Forse ho danneggiato la macchina di Alunso Ma no Dai non penso L'RS abilitato ragazzi E questo non ci voleva però È l'ultimo giro È l'ultimo giro È l'ultimo giro Piano qui in uscita Piano qui in uscita Piano qui in uscita Raga devo cercare di prendere più spazio possibile adesso Perché nel secondo settore perdo tutto Vedete 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 Incredibile È incredibile Qua DRS ragazzi A DRS Ulchenberg No secondo me era per la bianca ragazzi Era per la bianca Che faceva così fatica Non penso di aver danneggiato la macchina Cioè il contatto c'è stato Ma dai ma no Poi i danni sono standard Ma sono standard per tutti Non è che sono standard solo per Per me Hai capito Cioè nel senso sono standard per tutti Piano 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 Sì posso manchè mettere quelli realistici Come ho anche detto più volte Però cioè nel senso Già sono troppe cose ragazzi Che da qui dobbiamo stare attenti Piano 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 Sta volando su no da 3.7 Porca miseria Prendere un punto qui sarebbe un sogno Piano 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 Qui in uscita Piano qui in uscita Riesco ad azzeccare sto schifo di settore Allora adesso sinistro Seconda Così È tutto in seconda così Poi quasi taglio un po' No comunque lo faccio male ragazzi Comunque lo faccio male Mi tengo l'ers per il rettilineo eh Mi tengo tutto l'ers per il rettilineo Forse non l'ho fatto malissimo adesso Quel pezzo eh Non lo so ragazzi Non lo so L'ultima ragazzi L'ultima 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 sofferenza Qua si faceva in seconda Addirittura L'ultima sofferenza con Ulkem che ha le rosse Ma dovrebbero essere abbastanza usate Eh le rosse Dovrebbero essere abbastanza usate No comunque Non so Dei problemi ragazzi Forse gli ho tangiato la macchina Non lo so È lontano È lontano È lontano È lontano È lontano È lontano ragazzi Adesso ho fatto un verde Nel secondo settore Adesso l'ho fatto E infatti mi sembrava Di averla fatta bene Per la prima volta Mi sembrava Vince Lando Norris Grande Lando E noi signori Portiamo per la prima volta In questa carriera Guardate quanto ho dato A Ulkemberg Portiamo per la prima volta In questa carriera Le due Racing Bulls A punti È stata una gara Veramente incredibile Bisogna migliorare Tanto ragazzi L'ho detto anche in gara Bisogna veramente migliorare tanto Dopo l'aggiornamento Il controllo con la trazione È divenuto molto più difficile Per me A Monza È stato diverso ragazzi A Monza è stato diverso Perché a Monza Monza è una pista Veramente semplice Quindi lì A livello di trazione Sì ho avuto più difficoltà Ma alla fine Ce l'abbiamo fatta Qui invece Abbiamo veramente Pagato tanto 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 Vince Norris Comunque Piastri sul podio Quindi due McLaren sul podio Leclerc Anche ha avuto Anche ha avuto dei problemi Alla macchina Leclerc Infatti non so Che fine abbia fatto Però devo fare Di nuovi complimenti All'EA Perché questa gara È diventata bella Grazie alla safety car E l'esplosione Del motore In faccia Mi esplosione Tutta la nebbia Mi fa tutto il fumo Non ho capito nulla Però grazie a questo Siamo riusciti A diciamo Riavvivare la gara E a prenderci un punto Che qui A Baku Per come Abbiamo corso È praticamente Una vittoria E se posso essere sincero L'ultima cosa Finalmente si vede Anche un po' Yuki Perché effettivamente Non si poteva vedere Un Yuki Che è comunque Un buon pilota Un buon pilota Non si può vedere Cioè non si poteva vedere Sempre ultimo A zero punti Tra l'altro siamo stati Scavalcati dalla AS Perché siamo stati Scavalcati dalla AS Vabbè comunque Io sto migliorando la macchina Ma vabbè Comunque a parte questo Signori la prossima gara Sarà Singapore E anche qui Signori sarà Veramente Veramente Difficile Riuscire A non perdere La macchina Questa è la classifica 61 punti A livello di classifica Costruttori Siamo messi anche Discretamente bene Mancano poche gare Alla fine Quindi se tutto va Come deve andare Ci prendiamo il sesto posto Nella classifica Costruttori E il decimo posto Nella classifica Piloti Sono molto preoccupato Per Singapore ragazzi Sono veramente Preoccupato Per Singapore Questa attrazione Sarà il nostro incubo Io vi saluto E vi ringrazio Qui Da GMSM è tutto Ci vediamo domani Bella